i gritti sono cambiati un sacco perché vabbè facciamo comunque il cuore la macchina e poi il pomeriggio veniamo però diciamo di nostra spontanea volontà come volontari della protezione civile veniamo impegnati la macchina sia la macchina che il pomeriggio andiamo con i nostri colleghi della protezione civile andiamo a portare consegne di medicinali e consegne della spesa che ai generi anziani e non autotidiane aiutiamo diciamo i nostri colleghi si rispondiamo diciamo lei la ragazza sta al centralino della protezione civile quindi risponde alle telefonate e poi invece io e l'altra ragazza diciamo aiutiamo gli altri con le consegne di medicinali oppure quando ci chiamano per le consegne della spesa sì abbiamo avuto contatti con il sindaco abbiamo parlato diciamo ringraziato della mano che stiamo dando alla protezione civile sì sì sono molto contante infatti ci ringraziano tutti i giorni arrivano migliaia di messaggi di ringraziamento grazie a tutti Grazie a tutti.